Ma ciao amici! Benvenuti al nuovo video del CF Vlog di Camera Fritch! Vi siete mai chiesti come mai su Facebook tutti i post e gli status sono sempre bellissimi? Foto da urlo! Fisici in paura! Corpi muscolosi! Tonici! Pettinature perfette! Visi tiratissimi! Illuminati quasi come il viso di Barbara Duzzo! Invece io sempre il solito cesso! Sempre il solito cesso! Sempre il solito cesso! La mia vita è una merda, va tutto male però! Facciamoci un magico selfie! Non possiamo mica far capire ai nostri rivali che siamo persone umane! Che siamo tristi! Che abbiamo il cuore spezzato! Dobbiamo sempre apparire in forma sbagliante, sorridenti, allegri! Pura finzione! Non lasciatevi ingannare da chi vi vuole prendere in giro! Da chi vuol farvi credere di essere quello che non è! Dai fazzi! Dai bugiardi! Dai finti etero! Dai finti gay! Dai finti belli! Dai finti magri! Dai scemi che fanno i video! Dai scemi che fanno i video nel frigo! E' solo un mondo di pura illusione! Ma ogni tanto può capitare di incontrare delle belle persone! Casi rari! Ma succede! Ad ogni modo! Attenti! Su Facebook il pericolo incombe! Morale della favola! Non abbiate mai paura di essere ciò che voi siete in realtà! Vi prenderete del coglione! E' un ricchione! Ma sempre a testa alta! Bene amici se questo video vi è piaciuto mi raccomando mettete un like giù e condividete! Vi aspetto come sempre sulla pagina Facebook di Camera Fridge sul canale YouTube! Qui giù i link e su come sempre il tasto iscritti! Cliccateci su e verrete teletrasportati sulla pagina YouTube di Camera Fridge! Il primo canale frescamente gay! Ciao amici! Alla prossima!